eccoci all'ottore torretta con omar longhi ex ex azzurro oggi allenatore istruttore nazionale cosa ci dici dei progetti per l'estate per l'estate siamo già pronti aspettiamo le nuove direttive dal governo tutte le varie restrizioni che ci saranno ma siamo pronti sia che rimanga tutto come era quest'inverno cioè solo con i ragazzi di interesse nazionale oppure sperando che la cosa vada migliorando e sperando che ci sia un'apertura al turista ci siamo anche per gli appassionati portiamo avanti un lavoro ormai che facciamo da anni sono i nostri stage appunto per i master e le appassionate di sci sono stage di 2-3 giorni un paio di weekend al mese li potete trovare sul sito di evolutionskisskultonale.it oppure sui social cercando omar longhi instagram o facebook oppure mandando una mail a longuzzottanta chiocciolaiahoo.it per avere maggiori informazioni comunque sono stage che hanno avuto un bel successo ogni anno riusciamo a integrare e migliorare questi stage mi interessa e mi piace ricordare che nei miei stage tutto è personalizzato in base alle aree di miglioramento dei partecipanti e la si lavora sui quattro movimenti fondamentali in maniera sulla consapevolezza sulla percezione da lì creiamo tutta una base per migliorare anche poi in gigante e sarà una parte che faremo un po più avanti e la porteremo da novembre in poi qui al passo del tonale quindi vi aspettiamo intanto allo stelvio per giugno luglio e il mese di settembre e poi da novembre qua in tonale vi aspettiamo